Il problema è che ci sono anche altre forme che sicuramente si possono superare questa che è legato al mondo si possono superare andando un pochino forte perché noi siamo pieni a Roma in questo momento di arte cinese, giapponese e l'Italia Questi angeli sono molto belle che non devono superare sull'impaggine della nostra e devono andare oltre Se dico capirei, vuole dire che ho capito? Capirei, 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 rei, 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 tutti i capi sono rei Il mio capo è la mia testa, la mia testa è rea volessa E serrea, e serrea per la ressa dell'idea Come un eco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti